Mila Suarez è tornata a parlare di Alex Belli e raccontare cose molto personali dell'attore. Ma cosa ha detto? Mila Suarez è una protagonista in diretta di questo GF VIP 6, la ex di Alex Belli è stata diffidata proprio da quest'ultimo, ma nonostante tutto continua a parlare di lui e di cose molto personali che riguardano l'attore. Leggi anche, Alex Belli ha un fratello disabile, la reazione dopo la frase su Manuel Bortuzzo Alex Belli gay? Parla Mila Suarez Mila Suarez ha parlato ancora una volta di Alex Belli, così via Instagram ha detto, poi, sempre su Alex Belli, Mila Suarez ha aggiunto, il pubblico del GF VIP vorrebbe vedere un confronto a tre fra Mila Suarez, Delia Duran e Soleil Sorge. Succederà mai? Lo scorso settembre, comunque, la ex di Alex Belli è stata diffidata dall'attore per aver pubblicato alcuni screenshot dei suoi followers che le chiedevano se fosse stata diffidata per aver raccontato che Alex intrattiene dei flirt con gli uomini. Oggi la Suarez è tornata a parlare dell'argomento ripubblicando le risposte dei suoi fan, eccoli di seguito, la storie di Mila Suarez la storie di Mila Suarez seguici su Instagram, clicca qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.